buongiorno a tutti quanti questo pomeriggio piove siamo qua al limito siamo e sta piovendo tantissimo sta piovendo a cernusco neanche la goccia neanche la goccia fatta cernusco e qua sta piovendo tantissimo sta piovendo questa nuova di fantozia oggi non davano neanche più piove che ieri l'ho uscita la macchina e ieri l'ho uscitato e adesso piove sono le spese inutili niente non la pulisco prima c'è prima ogni volta che la pulisco piove non la pulisco mai non piove mai venerdì 9 giugno il 2023 fa abbastanza caldo fuori il termometro dice 28.5 gradi ci sentiamo questa sera ciao a tutti